Aurelio Merletti Eccolo qua Buon lavoro allora Ciao grazie Chi è il capo scorta qua? Castorani Castorani Ondrillo Dove sta Daniela? Ondrillo dove sta? Alla che è? Che state facendo adesso qua voi? Qual è l'operazione che fate? Accoglire le cime del canapa E farle essiccare Sì ma Dopo l'essiccazione c'è la lavorazione Noi stiamo in collaborazione Con la Emb Farm di Tostoredo E praticamente Anche da come Diciamo hanno preso accordi Si farà un'essiccazione Delle cime di canapa Per poi farci la produzione Di birra artigianale Chi parla è Daniele Castorani Sì sì Poi ci sarà Alessandro Palumbo Che spiegherà meglio tutti i procedimenti Quando viene Alessandro? Eh tra qualche Qualche minuto arriverà Di 10 minuti Benissimo E lui saprà spiegare meglio tutti i procedimenti Della fase del CBD Si chiama Cannabidiolo Cannabidiolo E lui saprà spiegare meglio tutti i procedimenti Sì 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 Grazie a tutti